Salve a tutti amici videoludici e benvenuti a questa nuova live per il canale Corso Videoludica Aca corti videogiochi sul canale viola ancora una volta con Aritimi Benvenuti e ben ritrovati ragazzi buona mattinata del 23 settembre O è sabato 23 settembre siamo in mattina Siamo qui ragazzi per guardarci alcuni video recuperati della verità Sempre per gli eventi del TGS 2023 Siamo al terzo e penultimo giorno dell'evento Finirà effettivamente il 24 cioè domani quindi domani 24 settembre il TGS di quest'anno Tuttavia per me è già finito i video che volevo vedere recuperare O comunque quello che era per mio interesse personale è già finito dal primo al secondo giorno neanche Una cosa del genere abbiamo già recuperato per quanto riguarda appunto l'evento dedicato all'Xbox showcase Poi quello di Capcom che sono tra gli eventi sicuramente più seguiti e importanti all'interno del TGS Per quanto non ci sia stato chissà quale grande evento esageratissimo Ma il TGS ragazzi non è quel genere di eventi per cui ci sono le maxi novità le super bombe no 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 Si sta diciamo semplicemente andando a vedere alcune piccole novità alcuni approfondimenti Più che altro è quello il TGS è più legato agli approfondimenti di ciò che è già stato antecedentemente Diciamo mostrato negli eventi nei super maxi eventi estivi sostanzialmente Tra questi ovviamente abbiamo Final Fantasy 7 Robert Che originariamente doveva essere l'argomento unico e principale per questa live reaction Però vi avevo avvisato ragazzi l'ultimo altro evento che volevo seguire era il TGS per lo Square Enix Che alla fine in realtà ha avuto ben due eventi Il primo è appunto l'evento terzo di questa mattinata Perché l'ultimo evento del TGS e del Square Enix si è tenuto alle 6 del mattino per l'orario italiano Io naturalmente non potevo seguirlo a quell'orario e col cavolo che l'avrei seguito comunque Io dormo a quell'ora Ma a parte questo alla fine come vi avevo già avvisato antecedentemente Ho controllato di che cosa si trattasse Eh sì non è il video Square Enix Presence che io speravo fosse effettivamente Cioè un video di una certa durata diciamo dai 30 a 40 minuti massimi In cui vengono mostrate soprattutto le novità inerenti a Final Fantasy VII Rebirth Con i dettagli sulla demo che era giocabile al TGS O comunque i video gameplay che sono stati mostrati e analizzati durante gli eventi Square Enix del TGS Cosa che invece ovviamente hanno fatto in una sorta di live diretta Quindi è il solito sistema che usano loro in Giappone Cioè si mettono lì ci sono dei presentatori Iniziano a parlare del più del meno riguardante ovviamente il gioco in questione Non credo soltanto Square Enix per quanto riguarda Final Fantasy Mi sono mi sbaglio il TGS Square Enix in realtà continuava Perché c'erano tanti argomenti di cui parlare effettivamente Ma per quanto riguarda specificatamente Final Fantasy Si è già tenuta nell'arco di un'ora massimo una cosa del genere In realtà non sarebbe neanche una durata così alta Il problema è che è quel genere di impostazione che io non riesco ad apprezzare Inoltre non ci sono nemmeno i sottotitoli in inglese Sarebbe troppo complicato seguire e cercare di capire di quello di cui hanno parlato Di conseguenza ho preso questa decisione di prendere due o tre video di giochi presentati Comunque durante l'evento del TGS o comunque altri giochi inerenti a cose di mio interesse personale E guardare semplicemente tutti questi sono video di approfondimento del settore I canali multiplayer, EveryEye E un video appunto di showcase Tratto dallo showcase tecnico ufficiale Che si è tenuto durante l'evento del TGS Riguardante un gioco di produzione interamente italiana Il Soulslike e Notria The Last Song ragazzi Che in effetti è di mio interesse Io sono italiano Le produzioni italiane sono di mio interesse personale Perché voglio supportare questo genere di produzioni anche nel nostro paese Perché secondo me anche questo aiuta a far capire al resto del mondo Che noi come video giocatori, video ludici non siamo secondi a nessuno Perché ci sono molte, ho visto testate ufficiali, cose varie Che dicono che noi in Italia non siamo veri giocatori, una cosa del genere Tutte cavolate, ok? Magari non siamo dei giocatori particolarmente che approvano giochi di nicchia o cose del genere Il fatto che molti giochi si vocifera E' probabilmente così che arriveranno sempre di più giochi che non avranno più il doppiaggio E sinceramente parlando a me del doppiaggio italiano Beh, fino a un certo punto Ci sono giochi che sicuramente meriterebbero di essere doppiati E roba come Cyberpunk 2077 Dimostra che il doppiaggio di una certa qualità Può essere tranquillamente ancora fatto Anche per produzione di AAA E' una questione di budget può anche essere Ma vale la pena secondo me di fare in tal unicasi Poi però almeno che arrivino giochi quantomeno sottotitolati Ok? Cioè questa cosa che è una tendenza a giochi Magari arriveranno in futuro Senza neanche avere il sottotitolo di italiani Ragazzi è una cosa che un po' mi sta sul gozzo Ok? Secondo me anche gli italiani non devono essere l'ultima ruota del carro Ci sono troppi giochi anche bellissimi Che meriterebbero di avere almeno i sottotitoli italiani Perché possono essere in tutte le lingue del mondo In qualunque lingua del mondo Anche roba che uno dice Ma com'è possibile che quel paese laggiù abbia i suoi sottotitoli E noi italiani no? Perché mi sembra così incredibile Che in Europa in generale Germania, Francia Magari anche Russia Quello che volete E altri paesi in generale Avvano i loro sottotitoli E noi no Perché no? Mi sembra strano Perché secondo me nel nostro mercato video ludico italiano Anche noi italiani acquistiamo videogiochi Siamo interessati a questo Se non ci date una cosa del tipo Oh ragazzi guardate Anche questo gioco arriva E arriva da voi Ma arriva anche per voi italiani sottotitolato Bellissimo E raddoppiereste le vendite In qualunque genere di gioco che sia Che sia di interesse di qualcuno Secondo me raddoppierebbero Anche di più Molte persone come me ragazzi Non comprano videogiochi In tal senso Perché non voglio acquistare un gioco Che non sia almeno sottitolato italiano Perché se no Non riesco a godermelo Al di là del fatto Della mia comprensione personale Ok? Mancanza o meno che sia Lo riconosco Io l'inglese Posso leggerlo E comprenderlo Ma non a livelli Particolarmente elevati E se poi mi metto a giocare un gioco Con tante scritte In inglese Che non è solo Legato al fatto Della lore Della storia del gioco Ma anche proprio a come si gioca All'interno del gioco E mi diventa troppo complicato Ci sono giochi Che posso tranquillamente Giocarmi anche in inglese Perché sono basilarmente facili E non c'è necessità Di quale grande comprensione Ma per giochi Ben Al di là Delle mie Capacità Di comprensione No Ho bisogno Di un testo italiano Quanto meno Il doppiaggio Sti cavoli Se non lo volete fare Ok? Ma almeno La scritta La traduzione Non mi verrete a dire Che vi costa Ancora di più Che fare il doppiaggio Perché non ci crederò mai Ok Basta con lo sfogo Ragazzi Iniziamo Quindi Ci sono tre video Che ho deciso di Prendere Per accorpare tutto insieme In un'unica Live reaction Analisi Quelle che sono Alcune ultime novità Riguardanti il TGS Quindi Abbiamo E note Della song Abbiamo un trailer Showcase Che mostra In poco più di 4 minuti Come stanno procedendo I lavori Per questo nuovo Soulslike Di cui comunque A suo tempo Quando venne annunciato Ero molto interessato È passato ormai Un annetto e passa Ragazzi Ancora siamo Non penso Uscirà tanto presto Ma comunque I lavori stanno procedendo Poi ovviamente Il main event Subito che è Final Fantasy 7 Robert Vedremo un video Di approfondimento Della demo Che è stata mostrata O comunque le novità Mostrate durante Lo showcase Dedicato Nel TGS E poi Per finire Un video Di approfondimento Per quanto riguarda Il nuovo update 2.0 Di Cyberpunk 2077 Che in realtà È già arrivato Chi lo sta giocando Ragazzi a quanto pare Così come anche il video Ha già mostrato Perché io ho già visto qualcosa Il video a quanto pare Dice che Gli aggiornamenti apportati Hanno veramente Praticamente Non dico fatto Di dimenticare del tutto Ma diciamo che Il modo in cui il gioco Era partito È ormai Un lontano ricordo Ok Già il gioco A suo tempo Mi aveva convinto Col passaggio Dalla old gen Alla next gen 2005 L'update Che portò Quella novità Più tutti Gli aggiornamenti futuri E le introduzioni Di meccaniche O comunque Di nuovi oggetti All'interno Del cyberpunk 2077 A suo tempo Quando ci fece Il one shot E poi lo giocai Per i fatti miei Già mi aveva convinto Tantissimo Sinceramente parlando Ma a quanto pare Questo nuovo update Porta il gioco A livelli successivi In vista Poi tra l'altro Dell'uscita Del Phantom Liberty Che è l'espansione Ultima per Cyberpunk 2077 Che uscirà La prossima settimana Martedì tra l'altro Ragazzi quindi Ci siamo anche in quello Sostanzialmente L'update Serve per avvicinarsi A Phantom Liberty Perché Gli stessi sviluppatori Dicono che Te puoi giocare il gioco Da qualunque punto Di salvataggio Che tu abbia Però L'update Praticamente Da quello che ho visto Loro dicono così Il che è una buona cosa E che significa Che i salvataggi Valgono Non è che vengono cancellati Perché non compatibili Col nuovo update E meno male E se questa cosa succede Probabilmente è un piccolo bug Che magari risolveranno Con ulteriori patch Successiva Che tanto ci saranno Sicuramente Comunque questo nuovo update Ragazzi porta Grandissime novità E cambiamenti profondi Nel sistema Di gameplay Di approfondimento Del personaggio Di come costruire La build All'interno Del personaggio Veramente Ci sono tante Ma tantissime Aggiornamenti E modifiche Che rendono il gioco Quasi diverso Completamente Da come era all'inizio Quindi Chi come me O molti altri addirittura Che si sono giocate Anche prima Ancora Dell'uscita Della versione next gen Dopo tutti quei cambiamenti E aggiornamenti Devuti al fatto Che c'erano bug ovunque Io Ora come ora Mi troverei stranito A riprendere in mano Così di botto Il gioco Per questo Anch'io lo ricomincerò Da capo Assolutamente Io secondo me Io credo ragazzi Che non è un obbligo Ma per me lo è Cioè diciamolo Cioè se tu mi fai un update Che cambia Le carte in tavola Completamente All'interno di un gioco Allora io credo Che sia necessario Ricominciarlo Interamente da capo Perché altrimenti Non ci capireste niente Ok Detto questo Fatemi andare A controllare La webcam Perché mi sembra che Sì L'avevo Cambiata Ok va bene così Avevo sistemato tutto Allora iniziamo Prima di tutto ragazzi Con Io ho parlato Ma funziona Sì Ho il microfono Ma meno male ragazzi Mi ero spaventato Per un attimo Ho pensato Che avessi charlato Per minuti interi Senza accorgimi Se il microfono Funzionava o meno Meno male Vai Ok Allora Primo video ragazzi Enotria The Last Song Official Technical Showcase Trailer Ok Questo è un soul strike Molto italiano Anche perché A noi creato Delle architetture Molto Italiane E chi è italiano Le riconoscerà subito Ci sono degli discorsi Per quanto riguarda Gli ambienti di gioco Che sembrano tipo Firenze Un po' Firenze Un po' Venezia Una cosa del genere Ecco ciò che sappiamo Di questo gioco È che ragazzi Ci sono maschere Sostanzialmente Che il nostro Protagonista Indossa Le quali Fungono da Vere e proprie Build Ci sono maschere Diverse Che conferiscono Build Diverse Ecco Questa è una piccola Novità All'interno Invece di essere Una build Preimpostata Che puoi comunque Magari modificare Con equipaggiamenti diversi È più o meno simile Ma la differenza È che A quanto pare In game Proprio Potremmo passare Switchare In certi momenti Da una build All'altra Perché noi Cambiamo le maschere E ogni maschera Conferisce Abilità O armamentari Unici O per meglio dire Tipici Per esempio Ci sarà quello Probabilmente Che è Che sfrutta Le abilità Più di forza Quindi magari Spade A due mani A una sola mano Una cosa del genere Che quindi sfrutta Attacchi più forti Quello che può usare Attacchi più rapidi Una cosa del genere Massimo 3 equipaggiamenti Personalizzabili E probabilmente Ottenuti dai nemici Quindi vuol dire Che in realtà 3 equipaggiamenti Personalizzabili Massimi Ma vuol dire Che ci saranno Tantissimi Tipologici di maschere Probabilmente Droppabili dai nemici O comunque dai boss Dai nemici Il quale quindi Te dovrai scegliere Quale Ottenere Fino a un massimo Di 3 Aspetto Abilità passive Spero che anche Le suddette build Siano comunque A loro volta Personalizzabili Allora Lasciamo perdere Come è stato Vedete ragazzi I sottotitoli ci sono Ma i sottotitoli Sembrano fatti Con google Traduttore Quindi lasciamo perdere Alla bene meglio Come vi stavo dicendo Esistono tante build Diverse Ognuna Specifica Per un tipo Cioè il guerriero Con quello Con i ferri Quindi le armi Più pesanti Quell'altro Il ladro Che è più veloce Infligge danni I singoli bersagli Il mago Eccetera eccetera A medio raggio Solite cose Quelle sono tipiche Da gdr Abbiamo però Un albero Di abilità E già questa è la differenza Dai classici souls Che non hanno L'albero Di abilità Per l'appunto E' una cosa Che si avvicina Più a una cosa Tipo Ottimesia Se vogliamo citare Un souls like Più recente Per esempio O anche A un Lies of P Che anche lì C'è un albero Di abilità Infatti Sbloccabile L'ambientazione Ci sta tutta Afficemente parlando Mi convince poco Semmai L'animazione E i modelli Dei personaggi Devo essere sincero Ma è ancora In fase di sviluppo Ma è perché Noi comunque In generale Tutti i nostri giocatori Siamo troppo ormai Fissati con la questione Dei FromSoft E i suoi souls O i Bloldron O i Sekiro Ok ragazzi Quello stile È il loro Punto Gli altri possono cercare Di imitarlo Per questo ci stranisce Sembra che ci sia Un sistema Di Avete visto Come di Perriaggio Anche in questo caso Eccolo qua C'è anche Chi utilizza Armi pesanti Un reangine 5 Tra l'altro Speriamo che riesca A sfruttarlo Come si deve Ragazzi Questo cavolo Di decantatissimo Nuovo sistema Grafico Ancora fa fatica A farse notare Si vede Si vede Che l'ambientazione Ci hanno lavorato Per rendere Molto italiana Diciamo Per quanto Un po' Supra le righe Ma Questo per esempio È un ottimo esempio Sembra È possibile È effettivamente Visibilmente parlando Sembra una cittadina Italiana Un borgo italiano Ma con qualcosa In più ancora Un po' Più esagerata Per esempio Avevo visto Degli screenshot Che mostravano Uno scorcio Che palesemente Sembrava Firenze Ma con queste Case Che torreggiavano Ancora di più Perché si poteva Vedere il cupolone Del duomo Si poteva vedere La torre del giotto Però sembravano Ancora più Più grandi Diciamo Una cosa del genere Vedete Vedete Questo è un tipico Scorcio Di una cittadina Borgo italiano Questi sono i boss Eh ok Ma sembrano tutti Umani Alla fine Sì Un po' particolari Perché indossano Sempre queste maschere Tutti indossano Queste maschere Che a quanto pare È il fulcro Di tutto Però Diamo io Una possibilità Ragazzi Secondo me Merita parecchio Ed è in arrivo Il prossimo anno Next gen Come italiano Voglio supportare Questa cosa Sicuramente Lo acquisterò Comunque In genere Molte produzioni italiane Io le ho acquistate Ok E ora ragazzi Il mini event Quello che veramente Volevo assolutamente Vedere Questo video Dal canale Multiplayer Punto it Ragazzi È basato Sulla prova demo Che hanno potuto Giocare loro Durante gli eventi Del TGS 2023 Ovviamente Loro erano lì Fisicamente Appunto A Tokyo Per seguire L'evento Tutto ciò Che diranno È basato Sulle loro impressioni E sicuramente Su Su Quello Che gli sviluppatori Gli hanno detto Fresco Fresco di annuncio Della sua data Di uscita Fissata Per il 29 Febbraio 2024 Final Fantasy 7 Rebirth Si ha finalmente Concesso a noi In versione Giocabile E ve lo diciamo Subito Sarà davvero Duro Aspettare Fino al suo Approdo Sul mercato Uno Ragazzi Uno dei luoghi Più I codici All'interno Final Fantasy 7 E straordinaria E anche grazie Alla chiacchierata Che abbiamo fatto Con Yoshinori Kitase Tetsuya Nomura E Naoki Hamaguchi Siamo riusciti A farci un'idea Di ciò Che ci aspetta Seguiteci quindi Se volete Saperlo Anche voi Cloud Sephiroth Una giovanissima Tifa E un silenzioso Soldato Shinra Si arrampicano Lungo i pendi Rociosi Che conducono Al reattore Mako Che torreggia Sul Nibel Questa ragazzi È una delle scene Più iconiche Di Final Fantasy 7 E qui A quanto pare L'hanno ricreata In maniera ottima Veramente una bellezza Per gli occhi E per il gioco Diciamo Qui siamo nel flashback Per chi ha giocato L'originale In cui Cloud è Tornato A Nibelheim In contratifa Li conducono Lui Sephiroth E questo Soldato All'interno Del reattore E poi Inizieranno i casini Con l'incidente Nibelheim Sephiroth Che impazzisce Eccetera Eccetera Questa è l'istantanea Che ci ha subito Accolto nel nostro testa Una delle sequenze Più significative Dell'intero universo Del set Chi ha giocato Sa poi tutta la verità E la quale Gli sviluppatori Sono curiosi a vedere Come avranno Rimodificato Ma l'hanno anche Trasformata in una gioia Per gli occhi E soprattutto Per le dita Se infatti Da una parte Le scogliere A strapiombo Sull'oceano Sono riuscite A comunicare Alla perfezione Tutta la solennità Del momento Dall'altra La possibilità Di utilizzare Sephiroth In battaglia La prima parte Della demo E quindi Un tuffo narrativo Nel cuore Dei confusi Ricordi di Cloud Nel mezzo Di una scenografia Capace di arricchire Ogni sfumatura Dell'esperienza Originale Ora i canyon E le caverne Del monte Nibel Sono più grandi E più dettagliate E i mostri Sono tanto feroci Da sembrare Quasi vivi E ogni fendente Sferrato Mette in evidenza La netta supremazia Del soldier Dai capelli argenti Sephiroth Poi stuzzica Costantemente Cloud Lo sprona E la coppia Di guerrieri Si lancia Praticamente Nel trailer Che molti Si erano Un po' Straniti Quando vediamo La scena In cui lui E Cloud Combattono Fianco a fianco E' ambientato Durante il flashback Di Nibelheim E tra l'altro Pure loro C'è questa nuova Introduzione Di questa nuova Meccanica Chiamata Sinergia In cui Due persone Possono Combattere Fianco a fianco Utilizzando Un'abilità Che combina Gli attacchi Di entrambi Sostanzialmente Sono mosse Molto spettacolari E che fanno Molto danno Ritorno alla classica Barra ATB I limite break Dello stile Del remake Del primo Parte del remake Costanzialmente Però con aggiunte nuove Ovviamente Appunto tra queste Le sinergie Addirittura in danze Combinate Per abbattere I nemici Più coriacei La bellezza Dell'ambientazione E quella Dei personaggi Quindi si rubano Costantemente La scena A vicenda E non è quindi Un caso Che Square Enix Abbia deciso Di introdurci A questa sezione Particolare Io devo rigiocarmi Da capo Fianco Per prendersi conto Che il sistema Di combattimento Confezionato Anche perché Non ho neanche finito La storia Io personalmente Di congiunzione Tra il passato E il futuro Della serie La commissione Tra l'active time battle E la formula D'azione Incarna quindi In maniera magistrale Tanto la componente Tattica Quanto il tradizionale Tasso di sfida Dando vita a scontri Che riescono a essere Spettacolari Da notare come la barra Del limit break Sembra caricarsi In questa demo Molto più rapidamente Di come me ricordassi Per quanto ricordo Che o subisci danni O tu fai danni Ma molto probabilmente Devi fare i danni Particolarmente forti Se no la limit break Non si riempie Molto velocemente Poi può darsi Che questa cosa Venga rivista Quando il gioco Uscirà effettivamente La demo È stata creata Ad hoc Ovviamente Per permettere Di giocare Cari al contempo Impegnativi Ma non solo Dialoghi Abiti Panorami Dettagli Tutto è stato realizzato Con un livello Di attenzione Straordinario Al solo scopo Di trascinare Il giocatore Nel vortico Dei ricordi Per regalare Alla malinconia Una forma concreta Se da una parte Kitase Nomura Ci hanno infatti Confermato La volontà Di continuare A stravolgere La narrazione Dall'altra Invece Momenti come questo Possono vantare Un grado Di fedeltà E una carica Nostalgica Che da soli Valgono Il prezzo E guarda un po' Chi c'è La demo Che abbiamo provato Era divisa In due parti Abbandonata La vetta Del monte Nibel Ci siamo Ricongiunti Al cast Di protagonisti Appena fuori Dalla grotta Di Mithril Quindi a qualche Kilometro Di distanza Dall'ingresso Il guardiano Della grotta Di Mithril E qui il titolo Ha mostrato Il suo Secondo volto Quello che Concede Al giocatore Un grande Senso Di libertà Amaguchi Ci ha svelato Infatti Che l'intera Struttura Di questo Capitolo È stata studiata Per essere Una singola Grande mappa Interconnessa Tramite sezioni Più contenute E punteggiata Di dungeon La sensazione È stata quindi Quella di trovarsi In un'architettura Molto simile A quella che caratterizza Goto War Ragnarok Il che va benissimo Il che va benissimo Perché devo ammettere Ragazzi Che non mi piace Final Fantasy XVI Per quanto riguarda Le mappe Ok Io l'ho sempre Adesso Se Final Fantasy XVI Avesse avuto Un'impostazione Di spostamento Di mappe E anche Di dialoghi Simile a quello In God of War L'avrei apprezzato Molto di più Perché a livello Di trama principale È micidiale Quando si tratta Di avventura principale E anche le avventure Secondarie Vanno pure bene Ma Il mondo interconnesso In quella maniera Mi annoia parecchio In certi frangenti Se Final Fantasy VII Che invece è diverso Perché ci sono più corridoi E sezioni sia aperte A dungeon Ma simile a un God of War Ottimo Ottimo È limitata Da una serie Di muri invisibili Ma questo non ci ha Comunque impedito Di montare in groppa Un ciocobo E rispire Riunione La bellezza Dell'ambientazione Circostante Anche in questo caso Gli sviluppatori Sono riusciti A condensare Le atmosfere Del passato Nel nuovo stile grafico Nonostante L'attenzione Dedicata ai dettagli Delle aree aperte Sia comprensibilmente Minore rispetto A quella riservata Alle fasi più limitate Vabbè anche nell'originale Era così In senso Il remake La prima parte Del remake Cioè che i dettagli Magari in sezione Più stretta Interna Erano maggiore Rispetto A un'ambientazione Più esterna Più Generale Ma è sempre così Era opzionale Oltre ad aver risparmiato Quindi al team Qualche grafico Yuffi che tra l'altro È introdotta All'interno Del DLC Espansione Del primo Parte del remake Ragazzi Con Intergrade Se voi acquistate Quello Già ce l'avete Per appunto E infatti io devo Anche giocarmi Interamente Quel DLC E la verità Atta capo La nuova sequenza Ha introdotto In maniera magistrale I panorami E l'architettura Di Yunon Che si presenta Qui come il primo Dei tantissimi Cambi di atmosfera Che caratterizzano Il terrore Delle profondità La nostra idea Per il sistema Di combattimento Era quella Di renderlo Al 70% Tattico E al 30% D'azione Così ci ha risposto Hamaguchi Quando gli abbiamo chiesto Perché la ricetta Del remake Abbia fatto sentire A casa Gli appassionati E anche Ma infatti Infatti questo sistema Che unisce Il vecchio E il nuovo Quindi più modernizzato Più action Ma comunque Con uno stile Tattico Perché rispetto Per esempio A Final Fantasy 16 Ragazzi Che lì è veramente Puro action C'è solo un personaggio Non c'è un party Clive per quanto Io possa adorarlo Cavolo io l'ho detto Final Fantasy 16 Sarebbe stato Una meraviglia Se fosse stato Più simile A un sistema Di combattimento Vicino al set remake Ma con l'impostazione Di Movimento all'interno Della mappa Come un God of War Cioè io avrei avuto Un connubio di queste cose Secondo me E avrebbe avuto Secondo me più successo Almeno io l'avrei Quanto meno Io l'avrei apprezzato di più Ma io il sistema Il sistema di combattimento Di Final Fantasy 17 remake L'ho adorato Veramente Perché è veramente Tattico Ti spinge a Sfuttare tutti i membri Del party Assolutamente Perché ognuno Ha le sue abilità Puoi tra l'altro Impartire ordini Preimpostati Per ciascuno Quindi puoi creare Build In un certo qual modo Di Di vere e propri party Perché uno può essere adibito A quello della cura Un altro che Fornisce difese Un altro che fa attacchi Più pesanti Più potenti A seconda delle circostanze Poi appunto In partigli Del tipo Se la La vita Di tutti i membri Del party O della mia personale O quella di un altro membro Cala e Sotto una certa soglia Tu personaggio Ti ordino allora In automatico Di curarmi Una cosa del genere Tutta appunto Strategia E per questo che è bello Come sistema di combattimento Time battle Con le libertà Concessi al giocatore In tempo reale Ovvero quelle di Attaccare Schivare Parare i fendenti Scusate un attimo ragazzi Mi stanno suonando Arrivo Chi c'è? Chiudi la porta Ma io ti sento parlata sotto Balla Scusate Scusate ragazzi Avevo bisogno di me alla porta Ok siamo tornati Continuiamo Sfruttare scorciatoie per scatenare gli attacchi più devastanti Come al solito le barre della TB si riempiano partecipando attivamente al combattimento Dopodiché è possibile consumarle per sfruttare le capacità dei personaggi o le abilità concesse dalle materie Perché tra l'altro mi sembra di ricordare che per anche addirittura per curarsi era necessario sfruttare la barra TB o qualcosa del genere Dipende però quella se era legata a un'abilità materia tipo di cura Le pozioni no mi sembra Comunque Ma perché c'è una sorta di turni effettivamente È una cosa a turni comunque particolare Quindi perché un personaggio non può istantaneamente riutilizzare un'abilità Deve passare un po' di tempo Lo deve ricaricare E quindi è molto particolare Tifa resta orientata verso le improvvise scariche di danni e Barret è perfetto per affrontare i nemici da lontano esattamente come Aerith Red riesce invece a stordire molto rapidamente gli avversari grazie alla sua velocità Un ulteriore conferma questa di come il gioco richiede di cambiare spesso formazione per sfruttare le doti di ciascun personaggio Così da avere la meglio nelle battaglie più impegnative In linea generale tornare al sistema ibrido dopo la parentesi action di Final Fantasy XVI è una boccata d'aria fresca E questo perché i creativi di Square Enix sono nettamente più a loro agio con una formula simile Riuscendo quindi sempre a garantire un corretto grado di sfida Tuttavia il team ha tratto un po' Ma è giusto comunque che ci sia questa diversificazione ragazzi Final Fantasy XVI ha una sua anima Ok per quanto io ho detto e anche qui in effetti lo dicono Il sistema di combattimento di Final Fantasy XVI puro action Bello e coreografico quanto vuoi ma questo è molto superiore Perché ti spinge a ragionare anche di più La squadra di Naoki Yoshida Durante lo scontro con Bottom Swell infatti Alcune mosse del nemico ricalcavano le meccaniche degli scontri di Final Fantasy XIV Sfruttando quindi animazioni legate al pavimento dell'arena Per segnalare i colpi più pericolosi in arrivo Per quanto concerne il sistema di progressione invece Gli sviluppatori hanno confermato che non ci sarà alcun legame con il primo capitolo Al di fuori dei contenuti dedicati a chiunque possieda un salvataggio Ok sì questo l'avevamo detto ragazzi Semplicemente se tu possiedi salvataggi del vecchio gioco Ottieni contenuto extra a livello di gameplay del tipo materie Una cosa del genere Adesso ho ben capito ragazzi Tutto qua solo questo Niente di più niente di meno Ma in effetti uno dice Passare cioè Te hai i tuoi potenziamenti del primo gioco Magari riaverli uguali qui nel secondo Sì sarebbe stata una ficada E non è certamente una cosa impossibile da fare Roba così per esempio No oddio Forse no impossibile è da fare Più che altro è la storia L'unificazione Cioè avete presente giochi tipo della Bioware O comunque dei CD Projekt Quando si parla di Mass Effect e The Witch La prima trilogia originale Sostanzialmente te In quei giochi lì Compivi Delle scelte durante la storia principale La quale poteva essere appunto Trasportata nel capitolo 2 Poi dal 2 al capitolo 3 E sostanzialmente ciò che accadeva nel capitolo 1 Le tue scelte Decretavano come avanzare Nella seconda parte di trama O per meglio dire Nel secondo gioco Ciò che tu hai fatto nel primo capitolo I personaggi lo sapevano Ah sai tu hai fatto questa cosa Quella volta Sì è così Ma solo legata a quella cosa lì Per quanto riguarda i potenziamenti E le armi no Quello ripartiva sempre da 0 Ma in realtà infatti è giusto così Perché Se ti inizi un gioco nuovo da 0 Riparti da 0 anche in quelli Perché potenzi I tuoi personaggi Con armi e equipaggiamento Di quel nuovo gioco lì Secondo me è sempre giusto fare in questa maniera Alla fine Dai Ricordiamoci che questo poi è solo il secondo Capitolo Ci sarà poi il terzo Conclusivo Ragazzi l'hanno detto Tra l'altro durante l'evento di G.S. L'hanno confermata anche questa cosa Abbiamo avuto la prima parte Final Fantasy VII Remake Seconda parte Final Fantasy VII Rebirth E poi il terzo Chissà che come si chiamerà Nell'integrità della narrazione Le sezioni che ci sono state proposte Non hanno fatto infatti Il benché minimo accenno Agli snodi essenziali della storia Né a grandi o piccoli cambiamenti Nell'intrezzo Ma se da una parte Ormai è evidente Che la direzione Imboccata dall'intero progetto Dica ci vorrai vendere Dal sentiero originale Dall'altra tutto ciò Che abbiamo visto Era estremamente fedele All'avventura del 1997 Gli sviluppatori Si sono detti consapevoli Infatti che alcuni Non hanno gradito Le modifiche alla trama Ma hanno anche affermato Che non cambieranno La direzione del progetto E sono quindi certi Che alla fine Nessuno rimarrà deluso Nemmeno i fan Di vecchissima data Sul versante tecnico Invece i dubbi stanno a zero I già elevati valori produttivi Del primo episodio Hanno fatto un ritorno In grande stile Mettendo in scena Modelli dei personaggi E dettagli del mondo Più che convincente E io spero che sia migliorato In tal senso Perché nell'originale Più che altro La versione PS4 Nella versione PS5 È una remastered Ma non possono far miracoli E che I personaggi principali Ha la grande Le texture Per quanto riguarda L'ambientazione generale Erano In molti frangenti Non erano A un livello Veramente dettagliato Diciamo Era un po' altalenante Io spero che in tal senso Finalmente Siamo riusciti a migliorarsi Ulteriormente Soprattutto La grande cura Per le animazioni Che in determinati frangenti Ad esempio Durante le mosse sinergiche Si presenta Allo stato dell'arte Durante la nostra prova Abbiamo potuto testare Solo la modalità fedeltà Ovvero quella Incentrata sulla risoluzione Ma tra le opzioni Disponibili C'era anche La variante prestazioni Il che significa Che lo stato dei lavori È già piuttosto avanzato E comunque Per chi ha trovato Personalmente questa cosa Dicono che I cali in frame Praticamente Questa è solo una versione prova Ma praticamente Non c'era un cali in frame E anche giocare A una modalità 30 frame E quindi fedeltà Quindi a livello elevato Di grafica Va più che bene Io non so Se giocherò A livello grafica O comunque Essendo più un maniaco Più che della grafica Della qualità Della fluidità Dei movimenti Penso che giocherò Alla modalità performance Però Però Mai dire mai Io ragazzi Sto sognando Il giorno in cui Finalmente Io ancora non capisco Perché sia impossibile Ancora oggi Ottenerlo Ottenere qualità grafica Con Alti frame Su console Sto parlando di console Più che altro Cioè Cosa bisogna aspettare Altre due generazioni Prima che finalmente Riescano a farlo Non lo so Ora sembra diventare Altalenante Solo nel texturing Delle zone più aperte Ma si tratta di un limite Comprensibile Poiché questo sequel Si prospetta Molto più A Gioone c'è il cannone C'è il cannone gigantesco Ragazzi Per il primo contatto Con Final Fantasy 7 Rebirth Square Enix Ha selezionato Due sezioni perfette Per alimentare Il motore Della nostalgia Il colpo d'occhio È come sempre Straordinario Personaggi e avversari Infatti Sembrano vivi E i fondali Sono carichi di dettagli Posizionati con precisione Materia Gargian Il guardiano delle materie La qualità è questa Che si riflette anche Nel sistema di combattimento Che mescola L'active time battle Con una formula più action Aggiungendo alla ricetta Anche le combo sinergiche Insomma Ogni elemento di Rebirth Fa presagire Un capitolo monumentale Però questo Nell'originalissimo Final Fantasy 7 Non era qui Mi sembra Vero? Guardiano delle materie L'avremmo incontrato Più avanti Quando già avevamo Un altro personaggio E voi cosa ne pensate Della scelta di Square Enix Di allontanarsi Dalla storia del 1997 Ragazzi Ve lo dico subito Io sono d'accordo Non volevo Io Anche se Questo è un remake Va bene Se si parla di remake Si rifà da capo Altrimenti è semplicemente Un remaster plus Cioè Praticamente rifare Lo stesso gioco Con qualità migliorata Cioè Se fai un remake Non dico che devi Snaturare del tutto La storia Ok Molti si sono risentiti Di questa cosa Ok Condivisibile Però personalmente parlando La storia originale È la storia originale Ed è quella Punto Temi Lo rifai Un remake Per tempi moderni Tenendo conto Di eventuali Comunque Fedeltà All'originale Ma riscrivendolo Per tempi Diversi E non c'è nulla di male Nel cercare anche Di provare A modificare O migliorare Eventualmente La storia No Cioè In fin dei conti I loro creatori Sono questi Cioè Proviamoci Secondo me Io personalmente Mi va bene così Per come sta andando La storia Mi va bene Diteci Diteci la vostra Anzioni Per cyberpunk 2077 Dopodiché A parte il supporto Probabilmente A eventuali patch Aggiuntive Non dovrebbe esserci Contenuto nuovo Sostanzialmente Perché poi Civil project Che probabilmente Passerà Ai lavori Per magari I nuovi The Witcher E magari Il nuovo E prossimo Cyberpunk Per l'appunto Speriamo che abbiano Imparato Dagli errori Non promettete Qualcosa Che non potete Fare Così nell'immediato Per non incorrere Di nuovo In gravissimi problemi Alla fine però Direi che Si sono rifatti Completamente Diciamo ragazzi Non è che hanno lasciato Il gioco così Com'è Hanno continuato A lavorarci L'hanno comunque Migliorato E alla fine Si può dire Che è il gioco Che più o meno Ci è stato promesso Alla fine Quanto meno Hanno Decentemente Anzi molto più Che decentemente Riportato il gioco In auge Dai diciamolo E siccome ci sono stati Anche supporti Ulteriori Al gioco Esterni Tipo Edge Run Ragazzi Ha contribuito parecchio A riaccendere L'interesse Per Saber Punk E attenzione Anche con contenuti Indicati in game Ok Allora Adesso siamo sul canale Every Eye Ragazzi Prima era multiplayer E adesso questo è il canale Every Eye Con un video apposito Approfondimento Per l'update 2.0 Di Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 È ora finalmente pronto A mostrarsi alla sua piena potenza L'upgrade gratuito 2.0 Rivoluziona il GDR di CD Projekt Red E lo fa in maniera Totalmente soddisfacente Seguiteci nel nostro video Vi racconteremo E vi mostreremo Tutte le novità Prima però Iscrivetevi al canale Per supportarci E per non perdervi mai Nessun aggiornamento Su Cyberpunk 2077 Night City È bella come non mai Una gioia per gli occhi Quasi del tutto Prima Questa è la versione PS5 Tra l'altro Su cui stanno giocando ragazzi E non piscine E già qui si può notare Delle differenze Notare per esempio Ragazzi In alto a sinistra Vedete questa barra Sotto l'indicatore della vita Quella è una barra Di energia È un'introduzione Completamente nuova Attenzione Perché prima non esisteva Ora qui ve lo spiegano Più nel dettaglio Ma semplicemente Questa barra È importante A livello di gameplay Perché a quanto pare Se tu spari Sparando Adesso non puoi più Sparare all'infinito Come cavolo ti pare piace Ma la barra si Abbassa Più tu spari E più spari Più si abbassa La barra di energia Più si abbassa La barra di energia Meno preciso diventi Strategie ragazzi Durante i combattimenti Dovrà esserci Molta più strategia Per l'appunto Ovviamente Questa barra di energia Come la barra di vita Può essere potenziata Ovviamente È stato anche tra l'altro Rivisto completamente Da capo Il sistema di potenziamenti Adesso per esempio A quanto pare E qui lo diranno I vestiti Sono puramente estetici Da quello che ho capito Io almeno I vestiti adesso ragazzi Non hanno più la questione Del Questo ti aumenta L'energia Questo ti aumenta La resistenza La difesa Eccetera eccetera No D'ora in poi Sarà un cyberpunk style Se potrebbe dire Ti hai poi creato Il tuo personaggio Con un vestiario Che io spero Tra l'altro Fra parentesi Nella mia run personale Che dovrò ricominciare Da capo Stavo cercando di trovare Tutti i vestiti unici E soprattutto Quelli e quelle Di Johnny Silverhead Io stavo proprio Creando il mio personaggio Con il vestiario Quello più iconico Del gioco Quello di Johnny Per appunto Io spero che qui Sì le missioni Secondarie principali Continueranno a darti Come ricompense Anche vestiari Unici Leggendari Si potrebbe dire Ma io penso di sì Perché nella mia run Che farò Quando inizierò Il live Il cyberpunk 2077 Io voglio Fare i vestiti Di Johnny Silverhead Così come le sue armi Assolutamente Questo Quello sarà Un obiettivo Assolutamente fisso All'interno del gioco Poi naturalmente Ci saranno Altri contenuti In particolare Ad esempio Quelli legati A edge runner Anche lì Si sbloccavano Dei vestiari Tipici Dei personaggi All'interno Di edge runner E voglio sperare Che ci saranno Comunque Per l'appunto Semplicemente Però I potenziamenti Sono legati A letteralmente Modifica Del corpo Letteralmente Noi potremmo Modificare I parti Delle mani Delle braccia Eccetera Le quali Ci daranno Accessso Appunto A nuove statistiche E quant'altro Praticamente Ragazzi In questo nuovo Cyberpunk 2.0 Hanno introdotto Quella che era Com'è che si chiamava In edge runner Ma che è anche In cyberpunk In generale Non mi ricordo Il termine preciso È quella cosa Per cui Quando uno Praticamente Modifica troppo Il corpo Compartimento Eccanica Alla fine Impazzisce No Per l'appunto Adesso non mi ricordo Il termine tecnico Che usavano Effettivamente Ma c'è A quanto pare Anche una barra È dedicata a quello Quindi noi Potremmo potenziarci Ma se esagereremo Troppo Forse Cominceremo A avere dei problemi Una cosa del genere Boh Vedremo un po' Nel gioco fatto E finito Ottimo A me alla fine S'ha capitato due volte Che addirittura Nella versione PC Si bloccasse Forse uno o due PC Playstation Uno o due volte E basta Mi sarà capitato E potremmo combattere Anche tramite L'utilizzo Delle Delle macchine Impressionante Densità Di edifici Punti di interesse E cittadini Immersi Nella loro vita Quotidiana Il primo elemento distintivo Della nuova edizione Di Cyberpunk 2077 È sicuramente Da ricercare Nella gestione Della stamina Del protagonista Appunto Laddove nella versione iniziale L'indicatore si svuotava Durante la corsa Questo update Permette di correre Senza limitazioni In giro per gli scenari Con la stamina Che andrà a consumarsi Solo se si decide Di utilizzare i dash O sparando con le armi Nel primo caso Una volta terminata La barra Sarà necessario Rifiatare Per qualche istante Prima di lanciarsi Di nuovo Nella mischia Mentre nel secondo Vedremo l'accuratezza Della bocca di fuoco Impugnata a calare Drasticamente Quest'ultimo è un fattore Che aggiunge ulteriore Stratificazione Alle sparatorie Ma questi non scappano Se ne fregano Le varie situazioni Molto spesso Muoversi continuamente Sul campo di battaglia E sparare raffiche brevi Magari Ci sono abituati Evidentemente Ah un'altra sparatoria La scelta migliore Per venire a capo Dei conflitti Evitando di sprecare Preziose munizioni Si tratta In linea generale Di una scelta Che ci sentiamo Di promuovere a pieni voti Poiché gli scontri Risultano ora Molto più vivaci E adrenalinici Rispetto al passato Il secondo elemento Che salta subito All'occhio Forse il più importante Per l'aspetto ruolistico Della produzione È un rinnovamento Della gestione Del personaggio Completamente rivisitato Anche in questo caso Ragazzi Vedete La barra Dei potenziamenti Le abilità Appunto È tutto Tutto Completamente cambiato A partire A partire dalla selezione Delle abilità Fino ad arrivare All'amministrazione Dei cyberware Il sistema di talenti Dell'originale È stato modificato E adattato Ad una più tradizionale Configurazione A base di skill tree Spendendo i punti attributo Tenuti nel corso Del viaggio Nelle diverse ramificazioni Dell'albero Sarà possibile Incrementare Le statistiche E da quello che vedo Ci sono alcuni Con livello 1 E altri Che hanno Un massimo livello 2 o 3 Potenziabile Quindi Le suddette Perche abilità Sono potenziabili Fino a un massimo Livello 3 Per alcuni di essi Il nostro V È sbloccare Uno dei talenti Della relativa categoria Che a differenza Delle precedenti versioni Si traducono Molto spesso In abilità Attive Aggiuntive A disposizione Del protagonista Si spazia Dai dash aerei A colpi fatali Con le lame Dal miglioramento Dell'efficacia Degli oggetti curativi A quello delle granate Dall'espulsione veloce Dai veicoli in corsa Da notare Guardate un po' Ragazzi Piccolo Questa già ne avevano parlato Durante i precedenti Aggiornamenti Dell'update Notate Non so se lo vedete Oh grazie per esserti iscritto Tu sei Darling 173 Grazie per aver partecipato A questa live Grazie per l'iscrizione Vedete In basso a sinistra Il perk Che sta venendo Segnalato In questo momento Che dice Muori 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 Vi ricorda qualcosa Non vi ricorda qualcuno Da una certa serie Cyberpunk Edgerunner Per l'appunto Ragazzi Rebecca Dai Questo ti fa capire Come adesso Il mondo di Cyberpunk Il mondo del gioco È unitissimo Ancora di più Appunto A Edge Runner E questo è un citazionismo E non penso che sia neanche l'unico Rebecca Miglior personaggio Di Edge Runner Va bene Bene vai Dai sto bene Sto bene Siamo ormai verso La metà Di questo video E quasi verso la fine Oddio la metà No Si più o meno 3 minuti e 16 8 Siamo lì dai Fino alla possibilità Di rigenerare Automaticamente La salute Durante gli scatti Sono in hype Questo nuovo update Di cyberpunk Il gioco A livello di trama Mi aveva preso Tantissimo Alla fine della fiera Però Col seno di poi Alla fine si può dire Che Averlo lasciato Fermo lì Ho fatto bene Con l'arrivo Di questo update Tanto devo ricominciarlo Comunque da capo Come ad esempio La possibilità Se avessi finito Il gioco Forse non avrei avuto Tanta voglia Di ricominciare Da capo Interamente Sinceramente parlando Ora ne va la pena E' passato tanto tempo Dall'ultimo Che ci ho giocato Come un futuristico Mago del sangue Discorso analogo Per gli impianti Di cyberware Adesso gestiti In una maniera Completamente ridisegnata Rispetto a quanto Visto nell'originale Recandosi presso I bisturi I chirurghi Dalla dubbia morale Disseminati nei vicoli Di night city Sarà possibile Acquistare e trapiantare Una vasta gamma Di arti Organi E appendici meccaniche Tutti dotati Di caratteristiche Peculiari E di un impatto Rilevante Sul nostro alter ego Digitale Ovviamente Ora questa è La barra principale O meglio Dove possiamo vedere Il nostro cyberware Del personaggio Con tutti i potenziamenti Tale barra però Cioè tutta La quantità Di quello Che possiamo cambiare Aumenterà Interpunk Lo adorerai E lo adorerai Senz'altro E ovviamente Senza contare Appunto L'arrivo Del DLC E espansione Con Idris Alba Per appunto No Al Idris Elba Idris Non mi ricordo mai Come si chiama Questo attore Scusate ragazzi Ma questa me la devo Vedere per forza Perché mi confondo Sempre Idris ne sono sicuro Ma mi confondo Con Allora Idris Elba Idris Elba Ecco come si chiama Certo Mi confondo Sempre Se no L'arrivo Appunto Con Idris Elba Nel nuovo Idris Elba Nel nuovo DLC Io Io credo Che sarà Una roba bestiale Anche Quell'update E in realtà Già Chi ha provato Una parte Della trama O cose così Dicono che sia Un'espansione Incredibile E io voglio Dagli ragione Voglio Dagli ragione Su questo Comunque Dicevo Ragazzi Questi sono i potenziamenti Quasi già al massimo Però sostanzialmente Questi potenziamenti Saranno sbloccabili Man mano Che avanzeremo Nella trama All'inizio Ci saranno Poche cose Che potranno Essere modificate Man mano Che avanziamo Potremo modificarne Sempre di più Poiché vanno a migliorare Le statistiche Attinenti al livello Di armatura E alla resistenza Alle alterazioni Di stato Sì Perché l'update 2.0 Di Cyberpunk 2077 Si lascia alle spalle Il sistema di equipaggiamento Di capi di vestiario E accessori Che ora ricoprono Una valenza Trettamente estetica E questo è quello Di cui parlavo prima Sì infatti Ecco Altro grande cambiamento Ragazzi Quello che già Vi avevo accennato Adesso Tutto il sistema Potenziamento Di resistenza Agli status E puramente Difesa Fisica O a una cosa Del genere Quelle statistiche Classiche Sono legate Puramente A queste modifiche Cyber Appunto Che possiamo fare Sul personaggio Invece Il vestiario E gli accessori Puramente estetici Quindi voi potete Semplicemente Sbizzarrirvi A fare un vostro Capo Capo Di vestiario Come volete Ok Senza preoccuparvi Di dover Pensare alle statistiche Ottima scelta Personalmente parlando Perché poi Cyberpunk Era talmente Piero di vestiari Che ogni volta Era Un tonfo al cuore Pensare di Cavolo Mi piace tanto Questo vestiario Qui Ma sono costretto A lasciarlo Perché quest'altro A livello Di statistica È migliore Magari però Non mi piaceva L'aspetto Capite no È bello Ora questa cosa Finalmente Che hanno tolto Quella cosa In favore Di quest'altra Quindi I potenziamenti Puramente Statistici Sono legati Semplicemente Alla modifica Del corpo Mentre i vestiari Appunto estetica Ottima scelta Per delegare Il potenziamento Dei parametri vitali Di V Alla diretta Sostituzione Di mani Gambe Braccia Scheletro Corteccia frontale E quant'altro L'unica limitazione È dettata Da una cosiddetta Barra di capacità Cyberware Che determina Il quantitativo Di innesti Che il corpo Biologico Del prototipo Che può essere potenziata Però per l'appunto Prima di collassare Va da sé Che tale indicatore Può essere ampliato Salendo di livello O sbloccando talenti Specifici In modo da aprire La stessa Quindi immagino Che quella barra Già alla sinistra Sia l'indicatore Che ti dice Quanto puoi modificare Il tuo corpo Raggiunto Quella zona Rossa Probabilmente Non possiamo andare oltre Perché altrimenti Il corpo impazzisce Ho capito Però è sbloccabile Sono pezzi Man mano Sempre più sbloccabili Per appunto Il attore può essere ampliato Salendo di livello O sbloccando talenti specifici In modo da aprire La strada Ad una più invasiva Presenza di parti artificiali All'interno del nostro organismo Con tutti i risvolti Che ne conseguono Tutte queste modifiche All'intelaiatura ludica Di Cyberpunk 2077 Rendono i combattimenti Parecchio più intensi E gradevoli da affrontare Complici anche Un visibile miglioramento Delle routine comportamentali Dell'intelligenza artificiale nemica Che ora si esibisce In tattiche più elaborate Che comprendono coperture Accerchiamenti E uso più intelligente Di hacking rapidi E granate Ottimo Ottimo Segnaliamo infine L'aggiunta della lotta A bordo dei veicoli E una presenza Più capillare Delle forze di polizia Che poi finora Il combattimento in veicoli Erano relegati Solo a scene Di intermezzo Legate alla trama Quindi erano Situazioni scriptate C'erano già I combattimenti In veicoli In cyberpunk Ma appunto Solo in momenti Specifici di trama Adesso invece A quanto pare Sarà possibile farlo Anche liberamente Nel free roaming Sostanzialmente Sia sul territorio La prima delle due Implementazioni Consente di imbracciare Un'arma da fuoco Mentre si sfreccia Al volante Di uno dei bolidi Presenti sulle strade Di night city Ingaggiando furiosi Combattimenti stradali Senza Io non credo Che esista un gioco In tutto il mondo Che abbia subito Così tanti cambiamenti Nell'arco Di qualche anno Eh ragazzi Cyberpunk è letteralmente Un upgrade continuo Quasi come l'anima Del gioco In un certo qual modo Le battaglie risultano Tutto sommato divertenti Ovviamente è legato A quello che è successo Che il gioco Venga migliorato Post lancio Ci sta tutto Peccato però Che la motivazione Di atto Questi enormi Cambimenti Sia dovuto Perché il gioco Inizialmente Non era quello Che era stato promesso Della serie GTA Con tanto di valutazione A stelline Che aumenta In base ai reati commessi E che si riflette Nella relativa risposta Da parte dei militari Si parte da un semplice Tallonamento Da parte di una volante In servizio Ad autentiche Cacce all'uomo Che coinvolgono La temibile divisione D'elite Magstack Se da un lato È vero Che finalmente Le forze dell'ordine Reagiscono realisticamente Alle nostre malefatte Dall'altro Ci si rende rapidamente Conto Che è fin troppo facile Sfuggire alle grimpie Della giustizia Basta seminare Sì guarda Per me personalmente Va bene così Non voglio rotture di beca Con la polizia Quant'altro Che magari mi stanno Le costole per ore E poi in generale Non sono quel genere Di giocatore Che fa cose cattive Nei giochi Tendenzialmente Cerco di comportarmi Sempre Come un bravo ragazzo Ecco diciamo Ci è capitato Di scontrarci A tutta velocità Contro altre vetture In sosta Di camminare con l'arma In bella vista In strade grimite di gente O di investire un pedone Senza allertare In alcun modo Le forze di polizia Niente che non possa essere Risolto in futuro Si intende Allo stato attuale È un'aggiunta riuscita Ed è un bene Che abbiano anche aumentato Il livello massimo Di cap All'interno del gioco Perché questo ti permette Di aumentare ancora di più Nel tuo e statistico Con la patch 1.5 e 1.6 Una metamorfosi Concettuale Strutturale E contenutistica Volta a dare Piena maturità Al disegno Di CD Projekt Red Gran parte Delle difficoltà tecniche Sono state corrette Il comparto visivo È stato fortemente potenziato E grazie a questo Nuovo aggiornamento Anche l'impianto ludico Ha goduto di sensibili Migliorie Su tutta la linea In combo con la corposa Eccolo qua Ora possiamo Finalmente dirlo Ragazzi C'è da dirlo Comunque Come hanno fatto A permettersi Di avere Di avere sia Chiano Reeves Che Idris Elba Boh Complimenti a CD Projekt Ok Ragazzi Con questo io posso concludere Quello che riguarda Il TGS 2023 Di quest'anno L'ultimo giorno per me È stato questo Siccome non ho voluto Seguire in diretta L'evento TGS Per Square Enix Perché sarebbe stato Troppo noioso per me E pure per voi Ho preferito Accorpare in un unico video Gli ultimi tre giochi Di cui effettivamente Volevo rivedere Gli aggiornamenti In particolar modo Final Fantasy VII Robert Che sto attendendo Tantissimo E io non vedo l'ora Anche Cyberpunk In realtà Siamo allo stesso livello Di attesa di hype Però Ve lo dico subito Siccome E questo ormai L'ho detto un sacco di volte In tutte le mie live Siccome sto ancora Finendo Final Fantasy XVI God of War Ragnarok Di recente Ho iniziato Mortal Kombat 11 Questi sono tre giochi Gli unici Che posso portarvi In contemporanea Di più non potrei Ok Sarebbe impossibile Per me Riuscire a portarvi Chissà quanti giochi In contemporanea Se vedo che poi La cosa magari Va a rilento Va bene Cercherò Di diversificare Ancora di più Portandovi Sempre video Ogni volta diversi Ok Ma il fatto è che Io mi conosco Se porto troppe robe Tutte insieme Alla fine Risco di non finirne O neanche une O di finirne poche Soprattutto anche Considerando che Siccome è già Di nuovo Da parecchio tempo Che non ritorno Né da Final Fantasy A God of War Ogni volta che rifaccio La live Ogni volta che faccio Un nuovo episodio Perdo la manualità Col personaggio E mi ci vuole un po' Per riprendermi E soprattutto Non voglio dimenticarmi Come si gioca Ai suddetti giochi Perché se gioco A troppe cose diverse Magari non riesco Ad abituarmi A quel sistema Di combattimento Perché Cyberpunk E Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Comunque non è che Sono complicatissime Ma sono ricchi Di cose da fare Che hanno Comunque un minimo bisogno Di essere appresi Soprattutto ora Con questi cambiamenti Di Cyberpunk Io devo riniziarlo Da capo per forza Perché ora come ora Non ricordo niente Di come si gioca Praticamente E devo riprendere in mano Il gioco da zero Ok Ora Se vedo che ci vuole Troppo tempo Per finire gli altri O comunque Sto andando a rilento E vabbè Inizierò qualcosa Però la mia idea Appunto Come sempre stata Sarebbe Finire questi tre giochi Mortal Kombat 11 Final Fantasy 16 E Garofor Riuscire a finirli Mano a mano E poi iniziare I nuovi giochi Quindi ogni volta Che ne finirò Uno di questi Inizierò uno nuovo Ok E in genere I miei giochi Che voglio effettivamente Portarvi dopo Mortal Kombat Alla fine Avrei deciso questo Ragazzi veramente Siccome i prossimi giochi Che vorrei portarvi Sarebbero Lies of P Final Fantasy 7 Remake Di nuovo da capo Per rifarlo tutto per bene In vista del Robert Che uscirà a febbraio E se lo inizio adesso Andrà benissimo Perché con le mie tempistiche Tanto ci vorrà Una vita intera Per farlo E l'altro gioco Sarebbe Cyberpunk Quindi dopo Final Fantasy 16 Garofor Ragnarok E Mortal Kombat 11 Gli altri tre giochi In successione Che vorrei portarvi Man mano Sarebbero Lies of P Cyberpunk E Final Fantasy 7 Remake Questi Ci potrebbe stare In fin dei conti Ci potrebbe stare Ok Detto questo ragazzi Vi ringrazio per aver seguito Questa live Vi chiedo di lasciare un pollice in su Se il video vi è piaciuto E potete vederne altri Iscrivetevi sia il nostro canale Youtube Che il nostro canale Di Twitch In entrambi i casi Vi chiedo di attivare La campanella Di notifiche Degli avvisi Per rimanere sempre aggiornati Voglio ramentarvi ragazzi Che le nostre live Possono essere in qualunque giorno Della settimana Per sapere quando Andate a visionare La sezione Programmazione Informazioni di Twitch Dove trovate una lista Quotidinamente aggiornata Per quanto riguarda Orare e dati E argomento delle live Vi ricordo inoltre Che le nostre live Da Twitch Vengono successivamente Caricate sul nostro canale Youtube Course Videoludica Dove trovate sempre Un video in anteprima Ogni martedì Giovedì E sabato Ancora una volta Vi ringrazio Vi saluto Ci vediamo I prossimi video I prossimi live Ci vediamo poi Per questo pomeriggio Per la prima parte Non so quante ne farò ragazzi Da quel che ho visto E' altalenante la cosa Perché può andare Dai 3 alle 5 ore Il DLC Di Separaty Wave Lo iniziamo Tanto è una cosa Abbastanza corta Nell'arco di 2 Massimo 3 live Io penso di finirla Quindi Oggi Almeno un paio di ore Ci dedichiamo Al DLC Separaty Wave Di Resident Evil 4 Remake Ciao a tutti ragazzi Ci vediamo oggi pomeriggio